Negli anni ci siamo abituati al tifo da stadio, alle coreografie e all'atmosfera che i gruppi delle curve riescono a creare attorno al rettangolo di gioco. Diverso è trovarsi dinanzi alle manifestazioni di affetto dei tifosi più piccoli. C'è qualcosa di spiegabilmente affascinoso, il livello di partecipazione emotiva che si scatena quando si trovano faccia a faccia con i loro beniamini scalda i cuori proprio dei combattenti rossoneri, capitano Cristian Agnelli e Michele Camporese, il difensore centrale di Tirrenia, arrivato alla corte di Mister Stroppa la scorsa estate. I due giocatori del Foggia Calcio hanno incontrato i tifosi in uno dei due store dedicati alla squadra. Il bilancio di Michele Camporese di questa stagione del Foggia Calcio? A livello proprio singolo e naturale, penso che si potesse fare un po' meglio, perché comunque abbiamo preso tanti gol, sicuramente a livello difensivo, soprattutto nella prima parte di stagione, un po' di rammarico ce l'ho. Per quanto riguarda complessivamente, però penso che comunque bisogna ritornare una stagione abbastanza positiva e soddisfacente. A livello personale invece? Arrivati a questo punto, al di là di un po' di stanchezza sia fisica che mentale, però posso solo che parlare bene, sono stato bene anche in città, società, è stato tutto molto positivo, quindi sono molto soddisfatto da questo punto di vista. Diamo un voto a questa stagione. Voto, mazza, eh dai, sicuramente positiva. Sei più? Sei più, anche sette in altre occasioni, anche cinque in alcune, però l'importante è che il Foggia merita dieci per quello che è stato poi l'atmosfera. E diamo allora un voto ai tuoi compagni. I miei compagni sono, già solo per sopportarmi e per sopportare quello che Foggia richiede, sono incommiabili, sicuramente positivi, sicuramente un otto. Che voto dai tifosi del Foggia? Eh, un bel sette e mezzo. È una tifoseria caldissima per la Serie B, è veramente una cosa eccezionale, vederli così tanto, soprattutto in trasferta, muoversi così. Con questo calore, con questo entusiasmo penso che per qualsiasi giocatore sia un aspetto positivo in più. Io darei un dieci pieno con lode, bacio accademico, è quello che si può dare dai tifosi, la gente come dicevo, vedi, mi è la pelle d'oca. Quest'anno io ho visto cose incredibili, le due curve fuori casa, i tifosi che venivano a salutarci da tutta Italia, ma soprattutto quando in casa si accendeva lo stadio. Che sapore ha quel momento che precede la partita in cui il capitano si stringe la squadra, allo staff? Quel momento fatto lì davanti, tutta la nostra gente, è un momento di carica, sono due parole, niente di particolare, è quello che mi viene al momento. Però, sai, uniti al mister, uniti al direttore, ma uniti poi a un'abbraccia che io mi sento collettivo dello stadio, è qualcosa che sicuramente dà una carica in più. Mi piacerebbe giocare in una serie superiore, sempre col Foggia. Cosa sogna il capitano per il Foggia? Beh, sogniamo il meglio, sogniamo quello che questa gente merita. La serie A per noi è qualcosa da immaginare, da sognare. In bocca al lupo capitano. Grazie, crevi il lupo. Grazie, crevi il lupo.